senza dire che lo... praticamente sto semplificando, andiamo tutti in Parlamento senza dire che voteremo Marini, lo votiamo di botto e passa. Invece la notizia è uscita e saltata. Lei ha detto che queste sono infamie. La parola infamia. Come ha detto Bersani, sono d'accordo, la parola infame si usa tra i rapinatori. L'infame è quello che tradisce, sì. Sì, la parola... Bersani ha detto così, un po' esagerando, si usa anche tra quelli della curva nord e della curva sud, quelli che tradiscono. Diciamo nei gruppi chiusi, coesi, che devono combattere. Nel caso della Meloni io non credo che lei alludesse a quella roba là. Secondo me è solo una scarsa padronanza della lingua italiana, cioè non si è resa conto che la parola infame, infamità, è carica di questo significato malavitoso. Lei l'ha detto in buona fede perché non ha una grande frequenza linguistica, diciamo. Secondo lei...